Se dovesse lanciare un ultimo messaggio sulla famiglia oggi, proprio perché possa, come dire, ridiventare un luogo di speranza, quale sarebbe, in base alla sua esperienza? La famiglia è una vocazione, cioè è un dono ed è una responsabilità. Chi fa famiglia non lo fa per sé, ma lo fa per restituire il dono della vita e il dono dell'amore che ha ricevuto. Quindi non si tratta di chiedere chissà quali diritti, si tratta di vivere la propria vita e costruire l'amore nel mondo. Perché il grande compito della famiglia è questo, migliorare questo mondo. Mi pare che ci siano tante famiglie.